numero 7 raggio di luna parte piano anche Rosendorf HBD dall'esterno Raja OM supera Reivap Va e Rengada Jet si impone al comando all'imbocco della prima curva Reivap Va scavalca Rengada Jet dalla seconda fila Ruggiada Khaf 14.9 lo strappo iniziale si va al completamento della prima curva con Raja OM leader tre lunghezze a separarla da Ruggiada Khaf che dall'esterno sopravanza Reivap Va i primi quattro in poco meno di 31 Ruggiada salta Reivap Va si sistema in seconda posizione dopo mezzo giro mentre in quarta segue invece Rengada Jet 600 in 46.3 15.4 il paletto Raja OM battistrada lungo l'arco della seconda corva in seconda posizione Ruggiada Khaf poi Reivap Va il mezzo miglio in poco più di 1.2 con una frazione tutto sommato comoda in 15.9 davanti alle tribune Raja OM in avvantaggio nei confronti di Ruggiada Khaf prende la via del largo Ruppam Gref anticipata da Reivap Va al chilometro in 1.17.4 si muove anche Rengada Jet poi Rosina del Ronco le cavalle affrontano la penultima corva un po' di caos lì tra Rosina e Rengada e Ruppam che stava passando 15.9 la frazione per iniziare il chilometro conclusivo con Reivap Va che si va a sistemare all'altezza del sulchi di Raja OM Ruggiada Khaf in fase calante Ruppam Gref a tiro poi Rengada che si libera 16 il parziale mezzo giro alla conclusione con Reivap Va che si fa più minacciosa al fianco di Raja OM Ruppam Gref che va per ricucire il gap per Buki Rosenduf HBD con a destra Rengada Jet 16.2 la frazione questo è bastato a Reivap Va per passare 2.576 Raja OM che è praticamente ferma superata anche da Ruppam Gref e Rengada Jet quando le cavalle entrano in retta d'arrivo Reivap Va in avvantaggio nei confronti di Ruppam Gref e Rengada Jet Reivap Va nel tratto finale porta a casa il successo nei confronti di Ruppam Gref e Rengada Jet 31 la chiusa poco più di 2.355 il totale 17.9 2.000 metri per il successo del numero 4 Reivap Va con Marcello Melis il training di Teo Scialpi per i colori del signor Vito Antonio Punzi 3.000 metri per i colori del signor Vito Antonio Punzi